Buonasera ai nostri telespettatori, ben ritrovati all'appuntamento con Il Fatto, ben ritrovato al Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri. Buonasera. Buonasera direttore, buonasera. Allora, siamo proprio al centro di un dibattito che da due giorni, sulle colonne del quotidiano Il Centro in particolare, ma anche su questa trasmissione in cui ieri è stato ospite Luciano D'Amico, ha acceso i riflettori sull'istituzione che lei dirige, il Consiglio regionale, soprattutto sul futuro della sua prossima legge elettorale, che tutti vogliono, che tutti stanno in qualche modo auspicando proprio per i prossimi mesi, perché è giusto farla nella prima fase della legislatura, come ha concordato anche D'Amico ieri qui, e che pare, Presidente Sospiri, leggendo Il Quotidiano d'Abruzzo, le dichiarazioni rilasciate proprio questa mattina da D'Amico, tutti vogliono fare allo stesso modo con il Collegio Unico regionale, dal suo osservatorio, che poi insomma non è un osservatorio banale, com'è la situazione? Sì, è una delle riforme che il Consiglio regionale nel 2025 affronterà e chiuderà, tra cui anche appunto questa è la legge elettorale che introdurrà il concetto di Collegio Unico perché vuole trasformare la narrazione del Consigliere regionale che deve staccarsi solo dalla propria provincia di residenza e avere un respiro regionale. Questo migliorerà sicuramente la qualità della produzione legislativa in una norma voluta dal Presidente Marsiglio che io ho sempre sostenuto e appoggiato come noto e che porterò in fondo all'approvazione. Che il Professor D'Amico sia d'accordo, a me fa molto piacere perché le riforme si fanno insieme, perché devono restare nel tempo. Non so se questo giudizio favorevole è così diffuso nell'ambito di tutta l'opposizione, ma smusseremo gli angoli come stiamo facendo per giungere all'approvazione di questa riforma. Se le permette il direttore però, nell'articolo che ha citato questa mattina del giornale Il Centro, D'Amico richiamava altre due riforme. La prima è quella di realizzare la ASL unica in Abruzzo e questo è un modello che invece io contrasto perché è già fallito in tutte le regioni dove è stato portato. Poi noi abbiamo due università di medicina, abbiamo un'orografia molto complicata con il Gran Sasso e non credo che sia un modello utile. Invece sono più favorevole e certamente questa sarà un'altra riforma che giungerà nel primo trimestre del 2025, una volta discusse, metabolizzata, compresa e controllata, giungerà ad approvazione che è quella di ridurre gli enti gestori del nostro ciclo idrico integrato, perché oggi noi abbiamo quattro ambiti e sei gestori. Io credo che l'Abruzzo sia facilmente divisibile in due ambiti e possano avere due gestori. Questo aiuterà ad affrontare in maniera più efficiente e più efficace le crisi idriche, le dispersioni d'acqua e tutti i problemi che comunque abbiamo quando abbiamo un'estate come quella dell'anno scorso che è stata preceduta da un inverno poco nevoso ed un'estate particolarmente poco piovosa. Però mi fa piacere che si riconosca che il Consiglio regionale ha una sua centralità, come l'ha avuta nella precedente legislatura, e che sarà il teatro di tante leggi importanti di riforma dell'Abruzzo. Ecco, lei peraltro che ha svolto in passato il ruolo che mi pare anche con grande apertura stia svolgendo Daniele Damario di guida della Commissione per le Riforme, mi ricordo un po' nelle precedenti leggi elettorali, portarono la firma peraltro a volte anche congiunta di Sospiri e D'Alessandro, quindi a testimonianza di un clima che si era registrato di confronto sulle questioni elettorali, sulle regole della vita della Regione. Però io le chiedo, lei personalmente, cosa ne pensa di questa proposta di Marsiglio? Ha a suo avviso, proprio alla luce della sua esperienza, delle cose da registrare, questa bozza rispetto al testo che discuterete in aula? No, no, io l'ho già detto e lo ribadisco con chiarenza, io sono assolutamente d'accordo, ho sottoscritto la norma, ritengo che sia giusto che un Consigliere regionale abbia un respiro più ampio, ho introdotto qualche correttivo perché al mirare il costo della campagna elettorale su base regionale, ovvero il modello dell'europea, ci sono tre preferenze con la preferenza di genere, quindi è possibile organizzare anche una campagna elettorale nella stessa lista, io sono assolutamente d'accordo che il Consigliere regionale deve ragionare su base regionale, per me è un problema di Chieti, dell'Aquila e di Teramo, se posso fare di tutto per risolverlo, lo faccio allo stesso modo come se dovesse risolvere un problema di Pescaro o di Montesilbano e così deve ragionare un Consigliere regionale. Ecco, lei che rivendica un ruolo alto dell'istituzione che presiede, non ha fastidio quando l'opposizione parla di un ruolo invece svilito dalla continua approvazione di leggi che distribuiscono prebende, le cosiddette leggi mancia, poi peraltro senza grandi discussioni? Diciamo che lo dicono ma non lo pensano perché poi queste leggi vengono approvate con molti voti favorevoli sugli emendamenti e diverse astensioni nel voto finale. Diciamo che qualcosa nel dibattito le opposizioni devono argomentare, leggi mancia non ce ne sono, io mi sono sforzato e credo mi venga riconosciuto anche di evitare le urgenze che si possono creare, certo se posso risolvere un problema all'Abruzzo o una categoria o un comune o una difficoltà emergenziale che si è creata e posso non attendere 15 giorni per un formalismo o il buon senso di andare dai colleghi di opposizione e far conoscere preventivamente quelle che sono le iniziative e poi portarle in approvazione. Il mio compito è quello di garantire l'opposizione ma anche quella di garantire velocità all'approvazione delle norme in Consiglio regionale in cerco di compensare queste due necessità. Dal punto di vista dei lavori delle prossime settimane ovviamente i riflettori saranno accesi sul bilancio, si aspetterà la proposta della Regione, a fine anno solitamente c'è questa maratona, lei prevede difficoltà, ci sono delle questioni che il Consiglio dovrà affrontare con particolare attenzione rispetto agli scorsi anni? Sì, questo certamente non prevedo particolari difficoltà perché comunque presenteremo un bilancio che avrà conti in ordine e nessuna tassa aumentata. Diciamo che noi ragioniamo nella costruzione del nostro bilancio anche con le condizioni di finanza nazionale, cioè con la ricaduta che ci arriva dalla quantità di PIL che lo Stato produce e di conseguenza di maggiori entrate che poi ci vengono in quota parte riversate. Ovviamente abbiamo dei focus che ci preoccupano e che stiamo attenzionando, come tutte le regioni italiane, non solo in Abruzzo, le spese della sanità devono essere ben controllate, ma io ragiono in termini di servizi, neanche possono essere troppo contratte, perché contrarre solo in maniera ragioneristica gli investimenti in sanità vuol dire ridurre la capacità di curare gli abruzzesi. Allora bisogna contenere ciò che non è necessario, ma anche spingere sugli investimenti su ciò che è particolarmente importante. La finanziaria sarà approvata, sarà approvata entro la fine dell'anno, speriamo di dare anche ai colleghi di maggioranza e di opposizione più tempo per poterla comprenderla, capirla e nel caso migliorarla, ma non vedo particolari difficoltà per la regione Abruzzo. Una domanda che si riferisce alla sua città pescara, ieri lei ha partecipato e ha dato grande rilevo a questa operazione che è iniziata con il simbolico abbattimento di una parte della vecchia struttura di riqualificazione del cementificio. E' così convinto che possa essere utile per la città e per il quartiere? Guardi, il cementificio è stata la fabbrica dove si è ricostruita pescara dopo la Seconda Guerra Mondiale. Dagli anni 70 in poi la città e il quartiere di Villa del Fuoco hanno sempre vissuto un conflitto molto forte nei confronti del cementificio. Dal 2015 si era inteso che la regione non intendeva più permettere lì la presenza di un impianto produttivo. La Calbit, che è l'azienda che fa cemento, aveva acquistato questo opificio, ha avuto l'intelligenza di comprendere che non c'era la possibilità lì di ritornare a produrre né cemento né a utilizzare l'impianto per altro e di conseguenza sta guardando a un progetto diverso di sviluppo che noi faremo di tutto per sostenere. Da ieri sono iniziati i lavori di demolizione complessiva di un'area che supera i 10 ettari e già la demolizione di un detrattore ambientale di fatto all'ingresso della città è un fatto positivo, anche perché alle spalle del cementificio c'è una sorta di parco fluviale che io ho potuto visitare, un'area che potremmo restituire alla città di un grandissimo pregio naturalistico e naturalmente spero che ci siano anche degli attrattori economici, uffici, negozi, servizi, attività collaterali, turistiche, sportive. Insomma, un fatto positivo, però è un altro impegno che abbiamo mantenuto. Le voglio dire dire, direttore, permetta di ringraziare tramite lei il Presidente Parsiglio perché è proprio un uomo che non vive di campanile, che può produrre una legge in cui il consigliere regionale è eletto in tutto Abruzzo e che ha guardato a tutte le città dell'Abruzzo con la stessa attenzione. Ma grazie a lui, non solo, ovviamente anche grazie al nostro lavoro, ma certamente il Presidente della Giunta regionale deve essere d'accordo, non solo sono iniziati i lavori sulle aree di risulta, abbiamo appaltato la prima parte dei lavori, ovvero il primo parcheggio, il parco, ieri è andata giù una scuola del centro di Pescara che sarà demoricostruita, stiamo abbattendo il cementificio, sta per andare in gara il parco nord, sulle naie abbiamo un grande progetto di rilancio. Insomma, Pescara sta vivendo un nuovo rinascimento e questo è sotto gli occhi di tutti, è sempre per citare i giornali di oggi, viene anche riportato nella classifica della qualità delle città in cui Pescara rappresenta una performance di spinta importante su base non solo regionale ma anche nazionale. Marsiglio rieletto, l'unico nella storia delle elezioni regionali abruzzesi, la Presidente dell'Umbrian, questa è la notizia del giorno, è un campanello d'allarme per il centrodestra un po' in tutta quest'area, non parliamo ovviamente dell'Emilia Romagna. Certamente dispiace perché era un Presidente uscente del centrodestra, ha perso contro una candidata civica che proveniva però dall'esperienza di centrodestra. Le elezioni regionali hanno un trend nazionale sicuramente, ma dipende anche dai candidati che sono in campo, probabilmente la Presidente Tesei non era riuscita in questi anni a stabilire un feeling con i propri cittadini a differenza di Marco Marsiglio. Comunque Perugia si era persa poco tempo prima, era una città ben governata dal centrodestra. No, non credo che sia un campanello d'allarme, anche perché se utilizzassimo questo metro di paragone vorrebbe dire che il centrosinistra è fuori partita per i prossimi 30 anni perché hanno appena perso in Liguria, prima della Liguria avevano perso in Abruzzo, prima ancora e dopo l'Abruzzo in Basilicata. Quindi sono elezioni regionali e come tale vanno considerate. Il centrodestra è secondo me in grande forma dal punto di vista come coalizione e c'è una parte importante che si sta riorganizzando all'opposizione del centrodestra che si chiama centrosinistra-campo largo, non spetta a me il giuricare. Ma non mi pare un campanello d'allarme per il governo Meloni. Ultimo minuto, ma la domanda è doverosa, Presidente Sospiri, lei può anche non rispondere se vuole, però è giusto che di fronte all'opinione pubblica quando si è colpiti, si è coinvolti in una inchiesta che poi sfocia anche in un rinvio a giudizio, questo condiziona la sua attività politica di questo periodo oltre che il suo stato d'anno, questo suppongo di sì. Allora, direttore, innanzitutto non sfuggo alla domanda, tra virgolette mi fa anche un po' piacere che me la faccia così ci evitiamo una magari sottaciuta ipocrisia. Ovviamente non sono contento e le posso dire che speravo, anche per come era andata questa udienza preliminare, che i miei legali avessero messo in evidenza come molte parti di questa inchiesta potevano essere chiarite in maniera preliminare. Spiace per il tempo che si è già attesi e per il tempo che si attenderà, però da un certo punto di vista sono anche sollevato che l'anno prossimo inizi questo processo dopo sette anni che discutiamo, sei anni, sei anni e mezzo che discutiamo di questi temi, ahimè, solo sui giornali. Io non sono ad uso commentare le fasi d'inchiesta, nel lamentarmi, neanche fare troppi comunicati quando finiscono i processi come lei potrà registrare. Io sono molto fiducioso, sono convinto che i magistrati analizzeranno tutta la documentazione in maniera seria o stima del PM, benché in questo momento sia la mia parte contrapposta. Sono straconvinto che nelle fasi dibattimentali di questo processo che inizierà avremo tempo e modo, spero, poco tempo e molto modo per chiudere questa vicenda, che chiaramente per me è dolorosa, ma finalmente inizia e quindi finalmente finirà. Grazie, Lorenzo Sospiri, Presidente del Consiglio regionale d'Abruzzo. Arrivederci a voi, buona serata.